Salve ragazzi e benvenuti in una nuova puntata. Oggi parleremo, continuiamo la nostra serie sui romanzi distopici, parleremo della Distopian 9, il padrone del mondo di Robert H. Benson. Perché è così particolare questo romanzo? Perché l'ho voluto portare ed è considerato uno dei capisaldi del Distopian 9. Pubblicato da Fedecultura non a caso perché Benson è un sacerdote, era figlio dell'arcivescovo di Canterbury e proprio il protagonista di questo romanzo si chiama Percy Franklin ed è un sacerdote. Ovviamente prima di continuare ti invito a iscrivervi al canale se ti interessano questi tipi di contenuti e quello che facciamo all'interno del canale appunto e soprattutto non continuare a vedere il video se vuoi leggere il romanzo prima perché andremo a spoilerare delle parti del romanzo e anche il finale. Quindi ovviamente magari finisci, legge il romanzo e poi torna a recuperare il video e lascia anche nei commenti i tuoi suggerimenti e le tue impressioni su quest'opera. Cosa che mi ha colpito principalmente innanzitutto la data di composizione dell'opera, 1907. Ragazzi è stato scritto 25 anni prima del romanzo di Aldous Axel in Mondo Nuovo ed è stato scritto una marea di anni prima rispetto a 1984 di George Orwell che sono considerati un po' i due capisaldi del dystopian novel. Questo romanzo è stato scritto tantissimo tempo prima. Quella è la differenza però reale, fondamentale? Innanzitutto non c'è effettivamente ancora una Russia comunista, un'Unione Sovietica, quindi non c'è ancora quest'idea di controllo sociale che è iperversa, ma c'è più uno scontro ideologico. Cioè la politica, è ovvio si parla tanto di politica anche all'interno di questo romanzo, ma viene più lasciata in secondo piano rispetto invece all'aspetto ideologico, al combattimento ideologico che si va riscontrando all'interno del romanzo. Quindi, com'è innanzitutto gestito il mondo? Perché qui si parla di mondo, si parla di divisione nel mondo. Così come in Orwell, cioè Orwell si rifà poi a Benson, non il contrario, il mondo è diviso in tre grandi blocchi. L'America, che è uno stato che sta... le Americhe che stanno dependo, la fascia europea che è gestita da un potere ideologico fortissimo, che è il potere della massoneria, la massoneria è una forma di religione atea all'interno di questo mondo, e poi c'è il blocco orientale che non ci viene presentato, rimane fumoso all'interno di una sorta di nebbia in cui riusciamo a intravedere qualche tratto, ma Benson non ce ne parla più di tanto. Si sa solo che l'Oriente è una fortissima potenza, perché ha visto l'alleanza di due grandi potenze economiche, che sono la Cina e il Giappone, e hanno formato il blocco orientale. Dove si svolge però, in uno specifico, il nostro romanzo all'interno di Londra, tra Londra e Roma? Abbiamo detto che è un romanzo che parla di fede, ma soprattutto parla della Chiesa Cattolica, perché Benson è un sacerdote cattolico, il suo protagonista, Percy Franklin, è un sacerdote cattolico. Ma ci sono anche le varianti? No! Non ci sono varianti del cristianesimo, è rimasta solo la variante del cattolicesimo, e quindi tutte le confessioni diverse da quella cattolica sono rientrate nell'alveo della Chiesa. Insomma, questa non è una buona notizia, ci dice Benson, per la Chiesa Cattolica, perché effettivamente c'è un'enorme emorragia all'interno della Chiesa Cattolica, che vede perdere fedeli tutti i giorni. Insomma, questa nuova ideologia, l'ideologia della massoneria, sta iniziando a diffondersi, accumula sempre più adetti, e la Chiesa si avvia verso un lento declino. Com'è ridotta la Chiesa? La Chiesa Cattolica ci viene illustrato, non viene descritto il romanzo, ma noi lo capiamo all'interno del romanzo, la Chiesa Cattolica ha rinunciato a tutti i propri possedimenti nel mondo per appropriarsi della città di Roma e dirigere lì il suo quartier generale. Quindi non è che l'ideologia massonica, questo è veramente una cosa interessante di Benson, perché non c'è una persecuzione in confronto ai cristiani, non c'è un uso della violenza. C'è, infatti, la massoneria viene guidata da questa forma di fede che loro chiamano umanitarismo, che non credono ovviamente in un Dio trascendentale, ma credono in una forma di spirito dell'umanità, di spirito del fare bene, di spirito della tolleranza. Quindi, come ce li presenta Benson, la massoneria che segue questa sorta di religione atea, che è l'umanitarismo, sembrano quasi più buoni di come ci presentano i cattolici, di come ci vengono presentati i cristiani, perché i cristiani vengono presentati come dei fanatici che, in nome di un Dio trascendente, compiono anche attentati, compiono anche delle azioni estreme, compiono degli atti di fanatismo, mentre l'umanitarismo massonico è estremamente equilibrato, è estremamente tollerante, riesce a sopportare pazientemente anche gli atti fanatici dei cattolici. C'è, quindi, una situazione che si avvia alla fine della Chiesa Cattolica, che si avvia all'asciuglimento. Infatti, il romanzo si apre con l'apostasia di un sacerdote cattolico che decide di spretarsi e di tornare alla vita laica. Percy Franklin, che è il protagonista sacerdote del nostro romanzo, vive tutto questo con uno stato di angoscia terrificante, si sente propriamente abbandonato, si sente propriamente sempre più isolato e schiacciato nei pochi fedeli che ancora rimangono a Londra. Ma, d'altro canto, non c'è semplicemente la storia di questo Percy Franklin, ma c'è anche la storia di un grande politico di Londra appartenente al Partito Comunista, ma ovviamente non dobbiamo immaginarcelo un Partito Comunista alla Marx o all'Alienin, ma il Partito Comunista fa parte sempre del circolo dei partiti di sinistra all'interno di questa grande fratellanza massonica. Oliver e sua moglie Mabel sono due personaggi entrambi interessanti perché sono tutti e due appartenenti a questa fede umanitaria, sono tutti e due appartenenti e sostenitori di questa alleanza massonica che dirige e gestisce il potere politico in tutta l'Europa. Oliver è un grande politico di grande spicco e viene guidato da Mabel o viceversa, cioè si supportano a vicenda, lo scopriremo nel corso del romanzo. Ma Oliver è semplicemente un personaggio chiave per presentarci quello che è veramente il significato, l'antagonista del romanzo che è proprio il padrone, quello che diventerà il padrone del mondo. Si chiama Julian Felsemburg, alcuni dicono Julian come richiamo a Giuliano l'apostata che è il persecutore di cristiani, imperatore persecutore di cristiani, ma fatto sta che Julian Felsemburg è rappresentato proprio come la figura dell'anticristo, è un nuovo genere di politico che ascende in maniera rapidissima, fa un'ascesa politica rapidissima, viene dal nulla, non si sa nulla del suo passato, ha 33 anni, l'età di Cristo appunto, e ha un potere magnetico sulle masse. È molto interessante perché qui ci sono molti più coni d'ombra nel romanzo di Benson rispetto a quelli che vedremo dopo con l'avvento della televisione, perché Benson, sebbene abbia questa romanzo è ambientata all'incirca negli anni 2000, Benson lo ambienta quindi all'incirca un secolo dopo, potremmo dire 2007 tendenzialmente per fare cifra tonda, in questo futuro, dice Benson, ci sono gli aerei di linea, cioè Benson arriva a anticipare l'esistenza degli aerei di linea e arriva ad anticipare l'esistenza di telegrafi senza fili, quindi l'esistenza dei telefoni cellulari che sono poi dei telegrafi, quindi comunque la comunicazione è sempre molto ostica, non è come nel telefono nostro, ma non arriva a, e questo è un punto molto importante, a prevedere la televisione, l'utilizzo capillare della televisione, infatti l'informazione per quanto sia pilotata, per quanto sia ovviamente porti tante cause in favore della massoneria e descriva tutti i cattolici e i cristiani come dei terroristi, eccetera, non ha quella funzione capillare, invasiva e veramente di controllo totale sulla persona che avrà poi nei romanzi che invece vedono cosa diventerà la televisione, vedono che il potere che eserciterà l'immagine sulle masse, soprattutto anche dopo l'ascesa di Hitler al potere, quindi dopo post-seconda guerra, tutte quelle di sopia che arrivano dopo la seconda guerra mondiale. Ma per riprendere il filo del discorso, Julian Felstenberg è questo politico, questa rappresentazione dell'anticristo, 33 anni, però non orribile ovviamente, l'anticristo scende con potenza, scende con fascino, con seduzione, infatti Oliver, gestisce il partito comunista, abbiamo detto, viene subito ammaliato dalla sua figura. Noi non vediamo mai Felstenberg direttamente nel romanzo, non ci viene mai descritto direttamente, non agisce mai direttamente con il lettore del romanzo, ma noi sentiamo solo e esclusivamente delle voci che ci arrivano da Oliver, dalla moglie Mabel, che anche lei lo vedrà dopo un po', Felstenberg, non riuscirà a vederlo subito, ma quando lo vedrà rimarrà totalmente estasiata, si mettono a piangere, vere proprie scene di delirio alla visione di questo personaggio carismatico, una sorta di dittatore buono, di re magnanimo, di Marco Aurelio del futuro. Julian Felstenberg incontra i capi dei vari stati e tutti fanno a gara per cedergli il posto, fanno a gara per volerlo a capo delle nazioni. Julian Felstenberg si fa vedere nella sua umiltà anche, rifiuta i ruoli di comando, rifiuta quando gli viene proposto di guidare l'Inghilterra, quando l'Italia gli propone di diventare il capo di stato, rifiuta tutti questi ruoli di potere, ma poi scopriremo che sarà un rifiuto perché poi vorrà e avrà in mente Felstenberg di, potremmo dire, creare qualcosa di più grande, creare proprio qualcosa a livello mondiale. Felstenberg vuole diventare il padrone del mondo. Ovviamente questa figura è la rappresentazione luciferina del potere della seduzione che conquista il mondo, che fa proprio il mondo, appunto il padrone del mondo. Percy Franklin qual è il suo, lo svolgimento della trama? Lo svolgimento della trama è molto semplice arrivati a questo punto, presentate tutte le carte di tutti i personaggi. Percy Franklin va a Roma per discutere col Papa delle implicazioni, per discutere delle problematiche che riguardano la Chiesa Cattolica. Il Papa, ovviamente, che era diventato Papa giovanissimo, impara che fosse diventato Papa all'epoca a 33 anni o qualcosa del genere, ma è invecchiato molto, ha raggiunto un'età che supera gli 80 anni, ormai è giunto alla fine della sua vita che non ha più le forze di continuare a rispondere. Roma, piccola parentesi, è l'ultima roccaforte, come abbiamo detto, della Chiesa Cattolica ed è una roccaforte che rifiuta ogni tipo di implementazione tecnologica della modernità. Cioè è rimasta una sorta di comunità amish, tra virgolette, all'interno di un mondo ultra tecnologizzato. È rimasta un po' una società che fa a meno delle comunità proposte dal progresso. È diventato, potremmo dire, una società basata su principi di durezza, inflessibilità ed estrema frugalità. Ma questo, ovviamente, non impedisce poi alla massoneria e a Felsemburg, una volta diventato padrone del mondo, di inscenare quasi un falso attentato per scatenare in maniera definitiva l'odio nei confronti dei cattolici. Quindi, quello che prima era una malcelata intolleranza, poi fondamentalmente non sfociava, l'umanitarismo massonico non sfociava mai nella violenza, nella ritorsione contro i cattolici. Quando l'abbazia di Westminster verrà convertita in un tempio massonico proprio edibito al culto di Felsemburg che ormai è ritenuto una vera e propria divinità dalla comunità massonica, c'è questo tentativo di attentato che non si sa bene se sia qualcosa di architettato, qualcosa di programmato apposta, l'attentato ovviamente viene sventato, ma a questo punto Felsemburg sostiene che la misura sia colma e che Roma vada spazzata via e vada rasa al suolo. A questo punto c'è una vera e propria rappresaglia, Roma viene distrutta totalmente, muoiono tutti perché ovviamente Roma è rimasta l'unica cittadella, l'unica roccaforte della chiesa cattolica, muore il papa, muoiono tutti i cardinali, tranne Percy Franklin che nel frattempo era stato nominato cardinale dal papa e un suo collega, quindi rimangono di fatto due persone e pochissimi altri ministri cardinali sparsi per il mondo. Quindi la chiesa praticamente è stata spazzata via, rimangono solo queste due personalità qua. Questa rappresaglia, questa distruzione e questo scatenamento della violenza che non lascia però indifferenti tutti quanti perché sebbene Oliver accetti questa decisione di Felsenburg e dicca che sia l'unica possibilità per estirpare il fanatismo e la violenza del mondo sia eliminare tutti i cattolici tanto che la rappresaglia contro Roma non sarà l'unica presa di posizione violenta nei confronti dei cattolici ma ci sarà anche l'idea della condanna morta dell'eutanasia fatta su coloro che si professeranno ancora cattolici quindi una sorta di legge marziale che colpirà coloro che si proclameranno appunto cattolici la moglie Mabel però moglie di Oliver davanti alle violenze ripetute che la massoneria umanitaria compirà nei confronti della chiesa cattolica rimarrà forviata rimarrà totalmente turbata la sua fede umanitaria vacillerà fino a crollare ma a quel punto potremmo dire senza un anticorpo che gli permetta che permetta Mabel di evitare quello che andrà a fare cioè di suicidarsi appunto questa sarà l'unica cosa che lei riterrà opportuna fare e infatti si recherà in queste case dell'eutanasia Benson parla di uno sdoganamento totale dell'eutanasia dove appunto vengono fatti morire malati dove vengono fatti morire coloro che stanno male e ci sono proprio queste case dell'eutanasia in cui Mabel si dirige per depistando ovviamente le tracce del marito per porre fine alla sua vita il suo ideale più grande che era l'ideale di un mondo pacificato non si può compiere secondo Mabel attraverso un atto di violenza così estremo la distruzione di Roma e la persecuzione dei cristiani e a questo punto appunto lei metterà fine alla sua vita nel frattempo cosa succede e qui finisce un po' il romanzo Percy Franklin e il suo collega e i suoi dimassi due cardinali si rifugiano a Nazareth lui diventa Papa Percy Franklin viene eletto da altri due cardinali viene eletto Papa e prende il nome di Papa Silvestro III che nella prima traduzione questa piccola notte in margine era stato tradotto con la traduzione Papa Benedetto XVI probabilmente perché nella prima traduzione degli anni venti Papa Benedetto XV era colui che stava governando in quel momento e forse il traduttore ha ritenuto di voler rendere più attuale la questione fatto sta che appunto non c'entrava poco o niente col nuovo Papa però a questo punto Silvestro III è l'ultimo Papa rimasto perché poi dopo di lui non ce ne sarà più nessuno infatti lui nominerà altri dodici cardinali che gli facciano da supporto ci sono nel mondo pochissimi cardinali tra questi è rimasto il cardinale di Mosca che è un traditore è un disertore quindi denuncerà che Papa Silvestro III si trova a Nazareth a questo punto Felsenburg preparerà una flotta navale scusatemi una flotta di aerei da guerra che andrà a Nazareth e porterà e distruggerà completamente Nazareth uccidendo Papa Silvestro III e uccidendo i cardinali che lui aveva appena nominato a questo punto la chiesa è terminata la chiesa è finita e inizia nell'ultima scena quasi un po' cinematografica Benson ci illustra l'inizio dell'Apocalisse cioè Felsenburg l'anticristo è colui che ha distrutto la chiesa del mondo e con la morte dell'ultimo Papa appunto inizia questo clima apocalittico inizia la fine dei temi ci sono tanti aspetti da considerare ci sono tanti aspetti interessanti di questo padrone del mondo di Benson ovviamente colpisce anche la lucidità con cui riesce Benson a vedere come si svilupperanno i tempi dalla massoneria la potenza per quanto riguarda la potenza umanitaria quindi la filantropia e tutti questi movimenti che pur sostenendo posizioni di ateismo eccetera poi fondamentalmente prendono un po' le veci di una nuova fede immanente prendono un po' le veci di un nuovo potere che voglio inglobare all'interno anche una sorta di legge etica di legge morale io spero che la recensione ti sia piaciuta di questo romanzo ho cercato di mettere in evidenza un po' tutti gli aspetti di questa distopia una distopia in cui la fede ovviamente ha un ruolo centrale perché non è una distopia semplicemente politica in cui entrano o subentrano rapporti di forza meramente economici o meramente di potere contro le persone qui il controllo è limitato questa forse mi è molto piaciuta perché non è tanto il controllo capillare cosa che vedremo anche prossimamente non è tanto il controllo capillare che vuole mettere in primo piano cosa che solitamente dopo si vede in tantissime distopie in cui non c'è tanto il controllo capillare tanto che ci sono forze che preparano attentati ci sono forze sovversive che lottano anche contro l'umanitarismo massonico ma è tanto l'idea appunto di un mondo in cui c'è costantemente questa lotta ideologica per accaparrarsi il diritto di come debba vivere l'uomo seguendo quali leggi e soprattutto questa lotta tra una fede tradizionale e invece le nuove forze le nuove fedi immanenti rappresentate appunto dalla massoneria e dall'umanitarismo io spero che la recensione ti sia piaciuta ovviamente iscriviti al canale se questi contenuti ti interessano noi ci sentiamo per una prossima recensione distopica intanto grazie mille grazie mille